gentili telespettatori buona giornata piante dosi e il patto con i paesi di partenza e l'ultima mossa del governo l'ultima non ce ne sono poi altre di cosa parliamo e anni che si cerca un accordo per l'europa per mandargli i clandestini che noi facciamo entrare in maniera automatica da mandargli in maniera automatica lo capisce anche un bambino dell'asilo che 26 paesi europei non accetteranno mai che l'italia gli mandi in maniera automatica clandestini so via dai non raccontiamo le storie di babbo natale quindi che l'europa possa prendere i clandestini che arrivano in italia in automatica è da escludere è da escludere non succederà mai mai bene secondo piano del governo era stato quello del braccio di ferro salvini e salvini finisce in tribunale facendo il suo lavoro facendo il suo lavoro tanto di cappello a salvini sotto questo aspetto è uno con è uno con anche lì il braccio di ferro non funziona perché arriva il tar arriva il magistrato che sale fa scendere tutti eccetera eccetera può funzionare e poi finisce in tribunale e rischi anche 15 anni allora il governo prova a fare le regole per le ong bene mossa astuta l'avevo fa l'avevo detto una mossa astuta faccio una serie di regole che loro non rispetteranno mai o almeno basta che non ne rispettano una e li frego cosa vuol dire arriva l'ong gli dico sì ti do il porto di sbarco subito vai a sbarcare poi quando sbarca andiamo a vedere se hai rispettato le regole a questa non l'hai rispettata sequestro della nave ci vediamo alla prossima volta e alla prossima volta te la confisco non te la do più era il piano perfetto la trappola anche le ong hanno detto è una trappola ma noi non rispetteremo mai le regole forse hanno capito che era meglio rispettare le regole e continuare a portare clandestini magari con più lentezza che non rispettare le regole e con la trappola avere confiscate delle navi costosissime e allora è fallito il piano del governo perché adesso le ong non si lamentano più dicono va bene è un po lontano il porto quattro giorni di navigazione andare quattro giorni a tornare siete un po birboni però più di quello non dice va lì fa scendere riparte fa giorni di navigazione in più carburante tempo in più però ti portano le persone sbarcano e ripartono meglio pochi da portare in italia che nessuno ora cosa rimane ora rimane solo il blocco navale chiaramente da non chiamare blocco navale perché quella frase quella definizione blocco navale spaventa navale con le navi blocchi macchette blocchi ecco i sinistri macchette blocchi vuoi fare la guerra vabbè i sinistri fanno i sinistri di professione in realtà il blocco navale chiamato oggi patto con i paesi di partenza cioè patto tra i paesi di arrivo e i paesi di partenza cioè tra il paese di arrivo e il paese di partenza italia libia l'ultima mossa è il blocco navale chiamato patto con la libia cosa consiste il blocco navale chiamato in un altro modo non è nient'altro che un accordo con il paese di partenza quel paese dal quale oggi partono non le ong ma partono tutti quelli che arrivano con delle barche di fortuna ma partono anche quelli che poi vanno con le ong perché si è scoperto che c'è clandestino e clandestino c'è il clandestino con tanti soldi tra virgolette che può permettersi un viaggio diverso allora si fanno poche miglia e poi c'è l'ong che ti porta in italia e poi ci sono i viaggi più economici che sono quelli con delle imbarcazioni senza incontrare le ong quindi ci sono diverse partenze cioè le partenze di quelli che possono pagare di più e quelli che pagano di meno lo stato libico permette frontex autorità per la sicurezza delle frontiere europee dice che ci sono dei punti di partenza conosciutissimi affollatissimi dove le autorità locali e con autorità locali non si capisce se il governo centrale o localmente sta di fatto che le autorità locali in accordo coi criminali fanno partire com'è st'accordo i criminali pagano le autorità locali l'unico modo per far collaborare le autorità locali con un governo italiano è quello di dare alle autorità locali più soldi di quelli che danno i trafficanti di persone più soldi i soldi convincono più di mille parole quanto ti danno 100 ti do 150 va bene benissimo da oggi non parte più nessuno avete capito come funziona non è una questione morale gli faccio capire ma qual è morale faccio capire quei soldi ungere le ruote in un altro paese è a un costo ci vogliono un bel po di soldi ci vogliono un bel po di soldi la fortuna è che l'euro in libia vale molto di più di quello che vale da noi perché lì con quei soldi quei soldi valgono almeno 4 5 volte almeno se non molto di più questo in sostanza è un accordo con i soldi con i paesi di partenza in più oltre a dargli soldi li devi poi aiutare a fermare le partenze cioè loro ci mettono l'impegno perché gli date perché gli diamo i soldi però tu con le tue navi italiane se qualcuno sfugge lo fermi gli dici autorità libiche guarda che qua c'è una barca che vi è sfuggita venitevela a riprendere questo è il il famoso blocco navale è il paese di partenza che non fa partire più a fronte di denaro però naturalmente visto che la costa è molto ampia ci può essere qualcuno che sfugge e allora lì navi libiche navi italiane fermano quelli che sono sfuggiti al controllo sulle coste e li fanno tornare indietro questo è il blocco navale che aveva fatto romano prodi di sinistra nel 1997 con la ex jugoslavia con quelli che scappavano dalla ex jugoslavia blocco navale fatto dal governo prodi in accordo con le autorità di quel paese perché il blocco navale lo puoi fare solo in accordo con il paese di partenza perché se lo fai tu da solo in autonomia allora diventa una sorta di pirateria come dice la sinistra perché la sinistra vuol vederlo come pirateria in realtà è un accordo con un altro stato se no davvero sarebbe pirateria grazie a tutti e arrivederci a presto